Benvenuti. Ricordo di Giovanni XXIII. Il passato 3 giugno si sono compiuti 50 anni della morte del Papa Giovanni XXIII, un fatto che commosse il mondo intero, che si era sentito amato e potremmo dire anche interpretato da chi fu chiamato il Papa Buono, come si è ricordato recentemente il Papa Emerito Benedetto XVI. Si sono compiuti anche i 50 anni della pubblicazione della più nota delle sue encicliche, la Pasce Minterris, considerata l'enciclica più importante della storia e sicuramente quella che riconosce l'eco più grande dell'opinione pubblica mondiale. Questa enciclica, che potrebbe essere considerata anche come il testamento del Papa Roncalli per il mondo, è datata l'11 aprile 1963, un giovedì santo, sei mesi dopo l'apertura del Concilio Vaticano II e quando Giovanni XXIII era già gravemente malato. Morì il 3 giugno dello stesso anno. Questi erano gli anni della cosiddetta guerra fredda. Il 1962 fu l'anno della crisi dei missili a Cuba che opposse Stati Uniti e Russia, crisi in cui il Papa fece da mediatore e che alla fine potette essere risolto in modo soddisfacente. In breve tempo, per causa molto diversa, i tre protagonisti di quel evento che portò il mondo sull'orlo di una guerra nucleare scomparsero della scena pubblica, Giovanni XXIII, Kennedy e Khrushchev. Paolo VI, quel stesso anno, dichiarò che l'eredità di Giovanni XXIII non poteva rimanere richiusa nella sua tomba. Faceva riferimento al Concilio Vaticano II e alla sua continuazione. Di fatto si era celebrata solo la prima sessione. Però possiamo anche pensare che si riferisse all'enciclica Pace Minterris, dedicata alla pace tra tutti i popoli, una pace basata sulla verità, la giustizia, l'amore, la libertà e diretta, come sempre, alla gerarchia della Chiesa e ai fedeli di tutto il mondo, ma anche, e per la prima volta, a tutti gli uomini di buona volontà. Giustamente questa enciclica emblematica è stata considerata come il testamento di Giovanni XXIII al mondo. Si tratta di una difesa aperta dei diritti umani e una proposta perché questi diritti abbiano un sopporto politico come cammino perché il mondo possa raggiungere la vera pace. Tra i molti altri temi, ebbe una risonanza particolare la questione del trattamento dato alle minorenze quando dichiara che dobbiamo fermare nella maniera più esplicita che l'azione diretta a reprimere o a soffocare la vitalità e lo sviluppo di queste minoranze è un grave violazione della giustizia e lo è molto di più se ha come fine farle sparire. Sono trascorsi 50 anni, ma questa enciclica resta sempre valida per un mondo in cerca di pace, sempre minacciata, pace che deve basarsi sul riconoscimento della dignità intrinseca e di diritti fondamentali di tutti i membri della famiglia umana. Arrivederci.